La Rosa della Vendetta. Anticipazioni per la puntata del 5 luglio. Nel cuore del prossimo episodio assistiamo a un crescendo di tensioni colpi di scena. Gulcemal, travolto da un turbine di rabbia e disprezzo, si trova faccia a faccia con Deva, la donna che ha strappato letteralmente dalle grinfie della morte. Dopo averla disperatamente cercata sotto la terra, il suo cuore è lacerato e spaventato all'idea di aver perso Deva. Ma il destino non attende e nel momento in cui Deva riapre gli occhi, ritrovandosi ancora una volta nel vortice della vita, Gulcemal non esita. La prende con sé, proteggendola con un vigore. Lei, con voce tremante, implora clemenza per coloro che hanno tentato di ucciderla. Gulcemal, completamente sedotto dal magnetismo di Deva, si ritrova a un bivio. Seguire i suoi principi di ferro o ascoltare il battito impetuoso del suo cuore. Contro ogni attesa, sceglie di risparmiare gli uomini, un gesto che li porterà a dirigersi velocemente verso la residenza di Gulcemal. Parallelamente, la trama si infittisce con Ipek, che si trova indospedale dal padre. Il padre, ancora debole ma sulla via della guarigione, viene informato di una verità sconcertante. È stato Gulcemal a ridurre in cenere la loro casa e i laboratori di famiglia. Un telefono squilla. È Deva, la voce carica di un dolore soffocato. Rivela a Ipek la verità del suo rapimento e del suo quasi tragico destino. Con parole misurate, chiede di proteggere il loro padre dalle verità troppo pesanti per il suo cuore ancora fragile. Il ritorno di Deva, sana e salva, solleva un coro di sospiro di sollievo tra i presenti, ma l'atmosfera è tutt'altro che serena. Mentre tutti la avvolgono di cure e attenzioni, cercando di avvolgerla in un caldo abbraccio di normalità, Gulcemal rimane un'isola di freddezza e distanza. Con un gesto brusco e carico di ira, Gulcemal ordina che gli oggetti personali di Deva siano rimossi dalla sua stanza. La decisione è perentoria. Lei dovrà trasferirsi in un altro ambiente, lontano dai suoi occhi. L'aria si carica di interrogativi mentre Vefa, testimone dell'inaspettato comportamento di Gulcemal, decide di affrontarlo per cercare risposte. Nel corso di un confronto teso e carico di emozioni, Gulcemal rivela a Vefa una scoperta sconvolgente. Dietro gli accordi commerciali con gli italiani si cela l'ombra di Zafer. Convinto che Deva abbia accettato di collaborare con lui solo per ordini di Zafer, Gulcemal è ormai sicuro che lei stia tessendo una trama di inganni contro di lui. Anche il suo recente rapimento appare ora sotto una nuova luce sinistra, un teatro ben orchestrato per manipolarlo. Consumato dal dubbio e dall'amarezza, Gulcemal si chiude in se stesso, deciso più che mai a distruggere Zafer e tutto ciò che rappresenta. La sua missione si trasforma in un obiettivo oscuro e implacabile, annientare il nemico che ha osato infiltrarsi così profondamente nella sua vita. Deva, ancora visibilmente scossa, trova il coraggio di narrare il suo terribile destino, essere stata seppellita viva, un racconto che trasuda disperazione e paura. Queste parole, cariche di un dolore crudo e incontenibile, risuonano nelle orecchie di un Gulcemal partecipe e turbato, testimone silenzioso di una sofferenza che forse aveva sottovalutato. La scena si arricchisce di tensione quando Mert, mosso da un senso di protezione e affetto profondo verso Deva, chiede spiegazioni. Le parole di Deva sono come colpi al cuore per Mert, che rimane sconvolto dalla scoperta di quanto ella abbia sofferto. Gulendam, che assiste a questa scena, percepisce immediatamente il turbamento di Mert, e le dinamiche si complicano sotto il peso di segreti troppo a lungo taciuti. Contemporaneamente fa il suo ingresso Armagan, la cui comparsa inaspettata aggiunge un nuovo strato di complessità. Fuggito dall'aeroporto, cerca rifugio e consiglio presso il fratello Gulcemal, portando con sé una rivelazione sconvolgente, la convinzione che entrambi siano figli dello stesso padre, Mustafa. Armagan, tradito dalla propria madre desiderosa di spedirlo lontano a Londra, si confida solamente con Ipek, implorandola di non fidarsi più di sua madre Zafer. Gulcemal decide di ospitare Armagan, scegliendo di mantenere il segreto. Tuttavia Gulcemal appare distante, assorto nei suoi pensieri, incapace o non disposto a incrociare lo sguardo di Deva. In questo clima di tensione, Mert fa irruzione nella stanza di Deva, portando con sé l'impulsività dei suoi sentimenti. Il bacio a tradimento, un gesto carico di passione ma privo di consenso, riflette la disperazione di Mert di legare il suo destino a quello di Deva, di proteggerla e iniziare una vita nuova insieme a lei. Tuttavia, Deva lo respinge con fermezza. Il suo cuore è altrove, e le ferite aperte dal rapimento e dalle recenti rivelazioni non sono ancora guarite. Il tentativo di Mert di riconquistarla si interrompe bruscamente quando entrambi avvertono la presenza di Gulcemal dietro la porta. Il timore che possa scoprirli in un momento così compromettente spinge Mert a ritirarsi precipitosamente. La tensione raggiunge il culmine quando Gulcemal, rimasto dietro la porta della camera di Deva, riflette su cosa fare. Il suo cuore è un campo di battaglia tra gelosia, tradimento e un amore inaspettato che forse sta cominciando a germogliare nei confronti di Deva. Deva rimane sola nella sua camera, l'anima turbata dalle onde di un mare emotivo che non sa ancora navigare. Gulcemal dovrà decidere se confrontarsi con i suoi sentimenti o continuare a nascondersi dietro il muro di silenzio e rabbia che ha costruito. Mert, nel suo tentativo disperato di riconciliare i sentimenti con Deva, le ricorda il suo amore nonostante venga allontanato. Le sue parole, cariche di una promessa di salvezza, risuonano nell'aria come un eco lontano. Mentre la notte cala, Garana e Kanan si trovano nel giardino. L'atmosfera è leggera e familiare, un momento di pura innocenza mentre raccontano storie alla piccola figlia di Kanan sotto un cielo stellato. Deva, attratta dalla serenità del momento, decide di unirsi a loro, portando con sé il peso dei suoi pensieri e delle sue emozioni. Quando arriva il suo turno di raccontare una storia, Deva sceglie di deviare dalla trama classica per condividere qualcosa di molto più personale, la sua storia d'amore con Gulcemal, narrata come una favola che si dispiega lentamente. Questo racconto diventa una confessione velata, un modo per esprimere i suoi sentimenti e le sue speranze, forse un ultimo tentativo di raggiungere il cuore di Gulcemal. Gulcemal, nascosto all'ombra del giardino, si ritrova ascoltatore involontario di questa narrazione. Le parole di Deva toccano una corda sensibile nel suo animo, scuotendo le fondamenta della sua rabbia e del suo risentimento. Tuttavia rimane immobile, combattuto tra il desiderio di avvicinarsi e la paura di cedere. Alla fine sceglie di allontanarsi in silenzio, un gesto che nasconde il tumulto interiore che lo agita. Deva, accorgendosi della sua presenza fugace, alimenta la speranza che lui possa voltarsi, offrendole un segno di perdono o, almeno, di comprensione. Ma, mentre si allontana, distratta dai suoi pensieri e dal dolore del rifiuto, non vede Gulcemal che, in un impulso tardivo, si gira a cercarla con lo sguardo, un gesto che parla di un amore non ancora spento. All'alba di un nuovo giorno, le tensioni che avvolgono la residenza di Gulcemal si accendono ulteriormente. Mert, con il cuore ancora acceso di rabbia e impotenza per gli eventi recenti, prende il telefono e compone il numero di Zafer. La conversazione si accende rapidamente. Mert non riesce a contenere la sua furia per il pericolo mortale in cui Deva è stata posta, una situazione che ha sfiorato la tragedia. Zafer, tuttavia, non è donna che si lascia intimidire facilmente. Le sue risposte sono taglienti. Ricorda a Mert con freddezza chirurgica che ha il potere di rovesciare l'intero tavolo, rivelando verità che potrebbero distruggere Gulcemal. Nel frangente di questa battaglia verbale, Garahana si trova accidentalmente a udire la conversazione. Le parole di Mert, cariche di disperazione e accusa, non le lasciano scelta. Con la determinazione di chi vuole proteggere una persona cara a tutti i costi, Garahana interviene, minacciando Mert di mantenere le distanze da Deva. Il suo avvertimento è chiaro e inesorabile. Se lui non si allontanerà, sarà lei stessa a rivelare ogni cosa a Gulcemal. Gulcemal e Armagan condividono un momento di tranquilla convivialità, un'occasione per rafforzare il legame inaspettato che li unisce e per discutere di questioni più serie e personali. Armagan, con un misto di gratitudine e preoccupazione, esprime a Gulcemal il suo disagio e la sfiducia nei confronti di sua madre Zafer, una figura che si dimostra sempre più ambigua e manipolatrice. Aprendosi completamente, decide di mostrare a Gulcemal una foto che ha trovato tra le cose di casa, una vecchia immagine che ritrae Zafer da giovane insieme a due bambini, un maschio e una femmina. La foto è un tassello di un mistero più grande, un indizio che potrebbe rivelare legami familiari nascosti o segreti del passato. Armagan chiede a Gulcemal di aiutarlo a scoprire di più su quella foto, una richiesta che Gulcemal, nonostante la sua iniziale esitazione, accetta. Nel frattempo, al tavolo della colazione si consuma un altro delicato scambio tra Vefa e Gulendam. Vefa, segretamente innamorato di Gulendam, coglie l'occasione per rinnovare il suo sostegno incondizionato a lei. Le sue parole sono cariche di un'affettuosa promessa di fedeltà e assistenza, ma Gulendam, intuitiva e acuta, capisce che dietro quest'offerta si nasconde anche un giudizio silenzioso sul suo matrimonio con Mert. Vefa non crede nella solidità di quell'unione e si posiziona come un'ancora di salvezza, pronto a intervenire qualora le circostanze lo richiedessero. Nonostante le apprensioni di Vefa e il suo tacito giudizio sulla solidità del loro legame, Gulendam lo rassicura, insistendo sulla bontà del loro rapporto, nonostante le circostanze atipiche del loro matrimonio. Il suo tono è fermo, volto a preservare la serenità di una vita condivisa che, almeno in superficie, appare incrollabile. Ma la quieta è di breve durata. L'arrivo di Gulcemal rompe l'equilibrio momentaneo, portando con sé notizie che scuotono Gulendam nel profondo. Con l'innocente intenzione di prendersi cura della sorella, Gulcemal annuncia di averle prenotato una visita ginecologica, ignara del dramma segreto che Gulendam sta vivendo. Il viso di Gulendam si contrae nel tentativo di mascherare l'angoscia per la perdita del bambino, un segreto doloroso che non ha ancora trovato il coraggio di rivelare a nessuno. Vefa, l'unico a conoscenza del tragico evento, osserva in silenzio, conscio del tormento di Gulendam e del peso che sta portando. Nel frattempo, a colazione, anche Deva si trova a dover gestire le proprie sfide personali. Con una richiesta timida ma carica di speranza, chiede a Gulcemal la possibilità di visitare suo padre in ospedale. La risposta di Gulcemal, tuttavia, è un distaccato assenso che si traduce nel chiamare un taxi per lei, un gesto di chiara indifferenza. Nel frattempo, il giorno della visita ginecologica di Gulendam arriva, portando con sé un carico di ansia e paura. Ogni passo verso lo studio medico è un passo verso un inevitabile confronto con la realtà del suo dolore segreto. Gulendam si siede sul lettino della dottoressa, il cuore battente pronta a sottoporsi all'esame che teme possa svelare tutto. La dottoressa, ignara del vero stato di cose, avvia l'ecografia, ma il silenzio che segue il tentativo di visualizzare il bambino è un vuoto che pesa come un macigno. Per un attimo, il mondo di Gulendam sembra sospeso, fino a quando, con un gesto che rivela una comprensione improvvisa e profonda, la dottoressa maschera la verità. Citando un malfunzionamento del macchinario rassicura Gulendam e chiunque altro possa essere interessato, che sia la madre che il bambino sono in buona salute. Grazie alla complicità inaspettata della dottoressa, riesce a mantenere il segreto della sua perdita, almeno per il momento. Mentre Deva affronta rivelazioni che scuotono le fondamenta della sua già turbolenta esistenza. La notizia di Ipek, che la incontra con volto teso e parole gravide di significato, cade su di lei come un macigno. È stata Zafer a orchestrare il suo rapimento e a mettere in pericolo la sua vita. Questa rivelazione accende un fuoco di rabbia e incredulità nel cuore di Deva, spingendola a cercare immediatamente un confronto diretto con la donna che ora vede come sua nemica. Preso dalla preoccupazione e dal desiderio di proteggere Deva, Vefa decide di seguirla, un silenzioso custode. Non appena raggiungono la casa di Zafer, Vefa si fa da parte, contattando Gulcemal per informarlo degli ultimi sviluppi. Questa comunicazione, tuttavia, non fa che alimentare i sospetti di Gulcemal, già provato dai dubbi e dalle incomprensioni passate. Egli, fraintendendo la situazione, si convince ancora più che Deva stia collaborando con Zafer, non sapendo che in realtà lei sta affrontando con Zafer. Il confronto tra Deva e Zafer è un turbine di emozioni. Deva, scossa e furiosa, non riesce a trattenere il suo risentimento e le sue accuse, chiedendo a Zafer il motivo di tanta crudeltà. Di fronte a questa tempesta, Zafer si difende con ferocia, negando ogni accusa e ribaltando la situazione. Secondo lei, è Deva ad essere impazzita, soggiogata e distorta dall'influenza di Gulcemal. Ogni parola aumenta il divario tra le due donne, entrambe convinte della propria verità, ma incapaci di trovare un terreno comune. Mentre Deva cerca disperatamente di fare luce sui motivi oscuri di Zafer, Zafer si difende attaccando, cercando di seminare dubbi e incertezze nella mente di Deva riguardo le intenzioni di Gulcemal. La tensione tra Deva e Zafer raggiunge un picco inaspettato, trasformando la loro conversazione in uno scontro acceso e irruente. Nonostante Zafer ordini ai suoi uomini di allontanare Deva, lei non demorde, sostenendo con vehemenza le proprie accuse e rifiutandosi di essere messa a tacere. La fermezza con cui Deva affronta Zafer dimostra la sua convinzione incrollabile. Tra lei e Gulcemal è Zafer a rappresentare la vera minaccia e malvagità. Deva è sconvolta ma determinata a scoprire la verità e a proteggere se stessa e gli altri da ulteriori inganni, mentre Zafer è frustrata dall'audacia di Deva e dalla sua incapacità di controllare la narrativa come avrebbe voluto. Armagan, trovandosi in una posizione precaria ma determinato a scoprire la verità su sua madre Zafer, decide di agire attraverso Ipek, una delle poche persone di cui Zafer si fida ancora ciecamente. Convince Ipek a svolgere una missione rischiosa ma cruciale, introdursi nella camera di Zafer e aprire la cassaforte. Questo gesto potrebbe rivelare segreti che Zafer ha tenuto nascosti. Dopo aver organizzato questo piano con Ipek, Armagan riceve la visita inaspettata di Deva, che ha appreso da sua sorella della presenza di Armagan presso Gulcemal. Deva, ancora scossa dai recenti eventi e dalla rivelazione di Ipek sul coinvolgimento di Zafer nel suo rapimento, è ansiosa di capire meglio le motivazioni di Armagan. Lui, con franchezza, le confida il suo crescente sospetto e la sfiducia verso Zafer, spiegandole che la decisione di rifugiarsi da Gulcemal è stata dettata dalla necessità di proteggersi da una madre sempre più manipolatrice e pericolosa. Mentre Deva e Armagan cercano di trovare un terreno comune nella loro diffidenza condivisa verso Zafer, quest'ultima non rimane inattiva. Zafer si prepara a organizzare un piano che potrebbe mettere seriamente in difficoltà Gulcemal. Zafer riconosce un'opportunità d'oro quando scopre la gara per un prestigioso progetto aziendale. Nonostante sia tecnicamente fuori tempo massimo per partecipare, usa la sua astuzia e le sue connessioni per inserirsi nella competizione, mirando a sovvertire le probabilità a suo favore e a sconfiggere Gulcemal, che fino a quel momento detiene l'offerta migliore. Parallelamente un momento di condivisione emotiva si svolge tra Gulendam e Deva. Gulendam, in un raro scatto di apertura, decide di confidarsi con Deva riguardo un momento doloroso del suo passato. Lei racconta dell'infanzia trascorsa con Gulcemal e del tragico giorno in cui il loro padre morì. Questo giorno era segnato da un momento di pura innocenza e gioia, poiché i due fratelli erano usciti per far volare un aquilone, un regalo del loro defunto padre. La perdita dell'aquilone mentre giocavano simboleggia non solo la perdita fisica del loro genitore, ma anche la perdita dell'innocenza e della spensieratezza della loro gioventù. La rivelazione di Gulendam tocca profondamente Deva, che trova nel dolore condiviso una ragione in più per sentirsi vicina a Gulcemal. Mentre Deva riflette sulle rivelazioni di Gulendam, Gulcemal si trova in un luogo di memoria e rimpianto, il cimitero. Lì, mentre rende omaggio alla tomba del proprio padre, Gulcemal si concede un momento di intima riflessione. La sua visita si estende fino alla tomba di Mustafà, dove i sentimenti si fanno intensi e contrastanti. In quel luogo solenne, Gulcemal rinnova il suo odio nei confronti dell'uomo che ritiene responsabile di avergli strappato la madre, l'infanzia e la vita. Parallelamente, Garahana, in visita all'ospedale da Ibrahim, si trova a confidare un'altra parte oscura della vicenda familiare. Lei rivela a Ibrahim che è stata Zaffer a orchestrare l'incendio che ha devastato la loro casa e i loro laboratori, un atto di malvagità calcolato che ha avuto ripercussioni drammatiche su tutti loro. Garahana sottolinea anche che Gulcemal sta agendo per proteggere Deva. Scopriamo che Garahana era stata la prima moglie di Mustafà e che era stata creduta morta a causa di un crudele atto di Zaffer. Il miracoloso salvataggio da parte di un pescatore e la fuga con la piccola Deva, sua figlia, delineano un passato di lotta e sopravvivenza che ora trova un nuovo obiettivo, la distruzione di Zaffer. Garahana, con il cuore in fiamme per la vendetta e rinnovata determinazione, incarica Ibrahim di trasferirsi nella casa di Zaffer. Questo non solo gli permetterà di sorvegliarla da vicino, ma anche di anticipare e forse sventare le sue mosse future, proteggendo così la famiglia da ulteriori danni. Nel frattempo, Gulcemal, cercando di approfondire la situazione con Armagan, si ritrova interrotto dall'inaspettata presenza di Gulendam, che segue il fratello senza che lui ne sia a conoscenza. L'arrivo di Gulendam e il suo confronto acceso con Armagan rivelano ulteriori divisioni all'interno della famiglia. Lei accusa Armagan di essere la causa dell'abbandono di Zaffer. Gulcemal però interviene per chiarire la situazione, spiegando a Gulendam che le radici del loro abbandono sono molto più profonde e datano ben prima della nascita di Armagan. Zaffer, sostiene Gulcemal, non ha mai amato veramente nessuno di loro e il suo abbandono era inevitabile, indipendentemente dalle azioni o dall'esistenza di Armagan. Queste parole non solo cercano di mitigare il dolore e la confusione di Gulendam, ma sottolineano anche la natura fredda e calcolatrice di Zaffer. Gulcemal, dopo il confronto con Gulendam, viene distratto da una vista inaspettata nel cielo, un aquilone. Questa visione risveglia in lui ricordi profondi e sentimenti contrastanti, poiché l'aquilone è carico di significati simbolici legati alla sua infanzia e alle perdite subite. Il gesto di Deva di far volare un aquilone non è casuale. È un tentativo delicato di connettersi con Gulcemal e di guadagnare il suo perdono. Tuttavia il piano di Deva non sortisce l'effetto sperato. Gulcemal, ancora ferito e pieno di rabbia, reagisce in modo brusco e doloroso. Nel suo turbamento taglia il filo dell'aquilone, un gesto simbolico che rappresenta il suo desiderio di troncare la connessione, rifiutando il tentativo di riconciliazione di Deva. Nonostante la reazione inizialmente dura di Gulcemal, Deva sceglie di non arrendersi. Per la prima volta decide di affrontarlo direttamente, chiedendogli di spiegare le ragioni del suo allontanamento e della sua freddezza. Gulcemal, messo alle strette, risponde con parole che sono come spine. Deva nega di aver mai dato importanza a Deva e riduce tutti i suoi gesti gentili a mere manovre di convenienza personale. Questa ammissione è un colpo duro per Deva, che deve confrontarsi non solo con il rifiuto, ma anche con l'idea che l'affetto e l'attenzione che Gulcemal le ha mostrato potrebbero non essere mai stati genuini. Il mondo di Deva sembra crollare attorno a lei, pezzo dopo pezzo. Dopo un confronto amaro e devastante con Gulcemal, che ha tagliato i ponti con parole dure, Deva cerca disperatamente conforto in Armagan, l'unica persona che pensa possa capirla in questo momento di profonda confusione e dolore. Armagan, tuttavia, è a sua volta scosso dagli eventi recenti e dalle accuse di Gulendam, che lo hanno colpito profondamente. Deciso a non trattenere più i segreti che gravano sul suo cuore, sceglie questo per svelare a Deva una verità che cambierà per sempre la loro relazione. Armagan rivela che Gulcemal è in realtà suo fratello, ma crede che entrambi siano figli di Mustafa. Questa rivelazione lascia Deva completamente senza parole. Nonostante il peso di questa rivelazione, Armagan non si ferma qui. Egli condivide anche con Deva il piano che ha messo in atto con Ipek per scoprire ulteriori verità. Determinati a portare alla luce i segreti e le menzogne di Zafar. Ipek si ritrova nel cuore dell'azione e si trova nella camera di Zafar, mentre è al telefono con Armagan. Con grande trepidazione apre la cassaforte e vi trova una lettera carica di accusa e dolore, indirizzata a Mustafa da qualcuno che lo incolpa per averli abbandonati. Questa scoperta porta Armagan e Deva a concludere che la lettera sia stata scritta dalla madre di Gulcemal e Gulendam, non sospettando che in realtà Gulcemal possa essere il figlio di Zafar e non di Mustafa. Parallelamente, la competizione per il grande progetto aziendale raggiunge il suo clou. Gulcemal sembra in procinto di vincere quando Zafar fa il suo ingresso con un'offerta che supera tutte le aspettative. L'uomo incaricato di decretare il vincitore, di fronte a due proposte eccezionali, suggerisce un compromesso inaspettato, che Gulcemal e Zafar collaborino per realizzare un progetto che unisca i loro piani. Entrambi, tuttavia, rifiutano decisamente, troppo divisi da rancori personali e passati conflitti per considerare una tale partnership. Gulcemal, in un gesto di apparente disinteresse per l'esito della gara, lascia che Zafar vinca, non mostrando sorpresa né turbamento per la decisione. Mert, in un atto di disperazione o forse di calcolata manipolazione, decide di inviare un messaggio a Zafar per informarla che Armagan è ospite in casa di Gulcemal. Questa notizia coglie Zafar completamente di sorpresa. L'atmosfera è tesa e carica di aspettative, mentre Deva e Armagan vengono guidati in una sala dove li attende una vista sorprendente, un tavolo coperto di soldi. L'incontro, orchestrato da Gulcemal, promette di essere tutto fuorché ordinario. Mentre cercano di capire la situazione, Zafar entra nella sala, visibilmente irritata, e si rivolge subito ad Armagan, rimproverandolo e incitandolo a tornare a casa. Tuttavia, prima che la tensione possa esplodere ulteriormente, Gulcemal interviene per chiarire il vero scopo dell'incontro. Con un gesto teatrale, Gulcemal indica i soldi sul tavolo, rivelandone il destinatario. Zafar. Questi fondi sono l'offerta per lei di ritirarsi dagli affari con gli italiani, un modo per liberarsi di una partnership che si è rivelata troppo ingombrante e pericolosa. La reazione di Zafar, una risata beffarda, suggerisce che sottovaluta la mossa di Gulcemal. Tuttavia, lui non si lascia intimidire e, con una calma glaciale, le spiega che ha scoperto le sue carte. Zafar stessa era parte del consorzio italiano, un doppio gioco che lei aveva orchestrato per manipolare gli eventi a suo vantaggio. Gulcemal non si ferma qui. Informa Zafar che tutta la gara per il grande progetto aziendale non era altro che un pretesto, un tranello magistralmente congegnato per esporla e rovinarla. Gli eventi degli ultimi giorni, tutte le manovre e le contromosse, avevano un unico fine, trascinare Zafar in una trappola dalla quale non potrebbe facilmente liberarsi. La rivelazione scuote tutti i presenti. Gulcemal consiglia a Zafar di accettare i soldi, perché ne avrà bisogno per affrontare le conseguenze delle sue azioni, ora che la sua rete di inganni è stata smascherata. Zafar, visibilmente scossa e irritata dalle rivelazioni e dalle minacce di Gulcemal, decide che è il momento di lasciare l'incontro. Con un misto di rabbia e determinazione cerca di portare via Armagan. Tuttavia Armagan fa una scelta sorprendente, si rifiuta di seguirla, scegliendo di rimanere al fianco di Gulcemal, che ora riconosce come suo fratello. Zafar e Gulcemal entrambi sorpresi dalla fermezza di Armagan e dalla rivelazione appena fatta. E così si chiudono le anticipazioni di questa intensa puntata di La Rosa della Vendetta. Nuovi segreti sono stati rivelati. Io sono Isabella e vi ringrazio per aver seguito questi emozionanti sviluppi. Non dimenticate di lasciare i vostri commenti qui sotto e di iscrivervi al canale per il prossimo video.